Sumaia Abdelkader ci è venuta a trovare a Pinocchio, questa sera sono le 17.42, l'abbiamo invitata perché abbiamo pensato che, visto che domani più o meno, tra domani e sabato, si conclude un mese che è importantissimo per milioni di persone, che vediamo anche molto spesso accanto a noi, perché lavorano con noi, perché vivono magari negli stessi palazzi in cui abitiamo noi, e osservano un mese di digiuno, che è il Ramadan, ti finisce con la N, abbiamo approfittato di Sumaia che, tra le tante cose che fa, è anche una divulgatrice culturale, per conoscere un po' di più questo mese e attraverso l'uso del digiuno previsto dal Corano per questo mese, un po' di più di una religione della quale ci arriva sempre poca roba e spesso forviante. Sì, confusa. Allora, diciamo una cosa, perché tu hai accennato al fatto che il Ramadan si conclude più o meno nei prossimi giorni. Allora, oggi dovrebbe essere l'ultimo giorno per chi segue il calcolo astronomico. Il calcolo astronomico ci dice che oggi è l'ultimo giorno di Ramadan e quindi domani è festa. Chi non segue il calcolo astronomico aspetta la sera per verificare se sorge la luna oppure no. Se sorge la luna allora domani è festa, se non sorge la luna allora la festa è sabato. Sembra complicato, ma pensate al carnevale ambrosiano e al carnevale romano. Faccio sempre dei paragoni, perché spesso noi guardiamo ciò che non ci appartiene o che non conosciamo come strano, poi invece viviamo le stesse complessità all'interno della nostra cultura. Oggi a Milano è un tempo tremendo da lupi, il cielo è bigio, nuvolosissimo. La luna sarà impossibile da vedere questa sera? Infatti, però diciamo che l'Italia tendenzialmente la maggior parte delle comunità islamiche segue il calendario astronomico che ci dice con precisione quando finisce in Italia un mese. Se googli lo sai a che ora spunta la luna? Dal monte. Allora, c'è da dire una cosa, che questo qualcuno può dire ma che casino. No, in realtà è una grande forma di democrazia, cioè ognuno può, in base alle varie interpretazioni, decidere se seguire un metodo piuttosto che un altro e tutti ci riconosciamo come metodi validi. E questo è bello da una parte, un po' più difficile quando si vive in un paese non musulmano dove si dividono le comunità, è possibile che si dividano le comunità nel giorno di festa, però va bene anche così. Insomma, ci sono anche famiglie dove nella stessa famiglia persone seguono diversi metodi e uno di giù è un giorno e l'altro è un giorno. Che però dici? Quello che finisce la festa prima poi non avrà nessun problema a fare la festa il giorno dopo. Esatto, anche perché la festa dura tre giorni. Ah, vabbè! E cosa prevede la festa della fine del Ramadan? Faccivolare! Si mangia roba buonissima! Allora, il primo giorno la cosa più importante è la preghiera della mattina. Il mattino si va tutti quanti a pregare, solitamente in luoghi all'aperto, ma il tempo non ci aiuterà per cui saremo tutti nei centri islamici a pregare. E poi si va a fare colazione, è la prima cosa più importante che si fa, specialmente per noi italiani la brioche e il cappuccino ci manca da morire, sarà il primo passo che faremo tutti. E poi si va a pranzo in famiglia, si passa la giornata in famiglia. Gli altri giorni si sfruttano per andare a trovare gli amici, altri parenti che magari non si sono ancora visti e si gira a regalare ai bambini i soldi. Ma dai! Questa è la tradizione, è un'usanza più culturale che religiosa. In realtà si fanno i regali ai bambini, si danno i soldi ai bambini, i bambini girano con le borsettine pronti a ricevere la loro monetina, il loro euro, due euro. Stupendo, la busta è la busta. L'astinenza, per cui, è che, voglio dire questa cosa, l'anno scorso parlando con Sumaya a un certo punto ho detto voglio fare un giorno di Ramadan, l'avevo detto anche in radio, no? Ho provato a fare un giorno solo di astinenza dalla mattina fino al tramonto di cibo e acqua. E ragazzi, è tosta? Eh beh, ci credo. È difficile, non è? Immagino poi i primi giorni, come dicevi tu all'inizio, i primi giorni sono i più tosti, poi lentamente il fisico si abitua. Tra l'altro, la pratica del digiuno è una pratica consigliata anche. Sì, magari poi arriviamo anche alla parte di salutare, però la cosa che volevo dire è che, che cosa che succede banalmente, senza fare retoriche o, non so come dire, viaggi mentali, hai da fare la tua vita? Ti sembra impossibile perché noi siamo abituati a impostare diete, cambi di abitudini, preparandole, spostando le cose e invece nella vita quotidiana, quella classica, togli la roba che ti darebbe il motore, no? E improvvisamente, questo vorrei dire, banalmente, in maniera molto basica ma molto efficace, ti accorgi che niente di quello che hai devi darlo per scontato. Grazie.